La situazione sul territorio è molto tranquilla. Al momento il principale problema è rappresentato dalle RSA. La preoccupazione affligge anche il professor Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della Task Force pugliese per l'emergenza coronavirus. Ci siamo attestati, prosegue, su circa 100 nuovi contagi al giorno. Abbiamo ancora qualche sussulto provocato principalmente dalla situazione delle RSA. Molti dei nuovi contagi derivano proprio dalle residenze sanitarie per anziani, ma il problema dovrebbe essere risolto nei prossimi giorni. Stiamo chiudendo tutti i cluster. Ogni volta che viene individuata una positività interveniamo con tamponi su tutti, personale e ospiti. Ci sono diverse situazioni, in particolare nelle province di Foggia, Bari e Bat. A Torre Maggiore, nel Foggiano, è salito a 35 il numero delle persone contagiate nella casa di riposo Sacro Cuore. Tra gli ultimi episodi, invece, si registra quello di una RSSA nel rione San Girolamo di Bari, dove ci sono almeno 13 anziani contagiati dal coronavirus, accertati nella struttura Villa Giovanna, ma potrebbero essere di più e si è in attesa di una cinquantina di esiti di loro già sottoposti a tampone. Anziani positivi e operatori sanitari entrati in contatto con i pazienti sono attualmente in quarantena. A Soleto, invece, nell'RSA alla Fontanella, restano 10 i deceduti dei circa 90 anziani ospiti e la procura ha già aperto un'inchiesta. Il sospetto è che alcuni di loro possano essere morti in seguito all'allontanamento del personale dopo i primi casi di positività. Nel resto della Puglia, invece, abbiamo una situazione sotto controllo e tutto sommato tranquilla, assicura il professor Lopalco. Intanto annuncia che la Puglia si sta preparando per la seconda fase dell'emergenza, quella che prevede il potenziamento dell'assistenza territoriale sui pazienti. Ci stiamo lavorando, stiamo per attivare le USCA, unità speciali di continuità assistenziale, e appena pronte partiremo.